Presso il Museo delle Navi Romane di Fiumicino si è svolta la presentazione del libro Sotto le stelle del Giglio, il naufragio della costa Concordia, scritto da Salvatore De Mola. All'evento, moderato dal giornalista Filippo Gaudenzi, erano presenti il direttore del Parco archeologico di Ossia Antica Alessandro D'Alessio e il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Nicola Carlone. La storia della Concordia, ha dichiarato Carlone, è una vicenda che ha messo alla prova il dispositivo di emergenza del Paese, misurandone le capacità operative e quelle decisionali, facendone emergere competenze, professionalità e umanità. Tra queste, ma non solo, quelle di donne e uomini della Guardia Costiera, da sempre in prima linea nel portare soccorso. Il libro fa parte della collana letteraria Storie di Mare, che, come ha spiegato il Capitano di Vascello, Cosimo Nicastro, ha l'obiettivo di investire su un percorso culturale, con progettualità definite di comunicazione, volte a preservare la memoria del nostro mare e a riconoscere il valore di chi lo protegge, di chi lo vive e lo promuove in ogni suo aspetto. Nel corso dell'incontro è intervenuto anche l'attore Cesare Bocci, che ha prestato la sua voce per recitare alcuni suggestivi passaggi dell'opera.